Buongiorno signori miei, buongiorno o buon appetito perché questo è poi un orario borderline Inevitabilmente ritorniamo su Roma-Milan, sì perché poi è dove ragazzi miei è veramente successo di tutte Attenzione, attenzione, io non mi riferisco ai 96 minuti, o meglio non soltanto ai 96 minuti di gioco Ma soprattutto quello che ne è conseguito dopo, dalle non dichiarazioni di Mourinho, la sua furia, furore Io più che altro la chiamerei strategia, ma ci arriviamo Ai moviolisti che riescono, ragazzi ascoltate i moviolisti, riescono a contraddirsi l'un l'altro, davvero Ai giornalisti stessi, da Dazon al club con caresse e compagnia cantante Ragazzi io li ascolto e so che anche loro, lo percepisco, anche loro non sanno che pesci prendere E questo cosa fa? Aumenta, aumenta i dubbi, aumenta, aumenta i dubbi e con annesse polemiche, inevitabili polemiche Inevitati, ci arriviamo Prima come al solito voglio invitare a lasciare un like, a iscrivervi al canale e vi devo dire grazie Perché come al solito abbiamo tagliato un altro traguardo, quello dei 164.000 iscritti, grazie E perché no scaricate l'app OneFootball per rimanere aggiornati sulle varie news del mondo del calcio Sulla vostra squadra del cuore, se volete andare a rivivere gli highlights dell'undicesima giornata di Serie A Tante news, tanti contenuti, tutti gratuiti, quindi scaricate tramite link in descrizione oppure tramite, come vedete qua, QR code Parliamo un pochettino di quello che succede, parliamo del Mu Ecco, iniziamo dal Mu Il Mu, innanzitutto, fa i complimenti a Mina Ecco, ha parlato poco ma è partito dai complimenti a Mina Perché? Perché riconosce come tutti noi Perché poi, almeno in questo credo che ci sia stata un'unanimità O comunque sì, la maggior parte ha riconosciuto Milan che per tre quarti della gara praticamente è stato superiore alla Roma E su questo credo veramente che ci sia stato poco da dire La partita del Milan a parità numerica è stata di grande livello In uno stadio, come ho già detto ieri, difficile Per cui nessuno, quando poi in realtà ci sono le polemiche, mette in secondo piano la prestazione Ma nessuno, come sapete bene, a me piace parlare di calcio E in questo canale nessuno può mettere in secondo piano quella che è stata la prestazione del Mina Ok, quindi anche lo stesso Mu lo riconosce e gli fa i complimenti al Mina Ma poi, poi cosa dice o cosa non dice? Parla del fatto che ci vuole rispetto per i romanisti Parla del fatto che non ci può essere dialogo con gli arbitri Perché se c'è dialogo non va in panchina nella prossima giornata Che non si può esprimere anche dinanzi alle telecamere Perché altrimenti appunto rischia la squalifica E dopodiché saluta, taglia la corda e va via Sì, gli episodi sono stati dubbi Sì, ci sono delle situazioni al limite Sì, nessuno sa la verità Sì, perché ragazzi, qua ognuno può dire la propria Ma ognuno non sa quella che è la verità scelta Su qualsiasi episodio Veramente, si fa fatica Sì, sì Quindi va bene, tutto va bene Però io credo che quella del Mu sia stata una No, non mi quadra No, no, no Perché il Mu, io l'ho visto polemico dal primo minuto Cioè, io, Mourinho, ieri, l'ho visto polemico dal primo minuto Mourinho, ha seminato, tra virgolette, zizzania Che è il suo modo di far strategia Dal primo minuto Dal primo minuto Perché non è che si è lamentato durante la gara Solo dell'episodio specifico Si è lamentato di qualsiasi situazione Il fallo al centrocampo L'ammunizione Il rinvio dal fondo Qualsiasi cosa Lui si è lamentato Qualsiasi cosa E attenzione Con questo tu non l'aiuti l'arbitro Non aiuti un arbitro Che magari ha una personalità diversa da un altro Perché poi l'arbitro è un essere umano E può essere più scarso o meno scarso di un altro Attenzione E ieri non l'ha aiutato E ieri poi, secondo me, ha trovato l'arbitro Meno congegnare Per apportare questo Questo stratagemma Chiamatelo come pare Perché io, ripeto Io Mourinho l'ho visto troppo Ma troppo polemico Sin dall'inizio E attenzione Questa polemica Lui la trasferisce anche sui giocatori Che Riescono a dare Tutto quello che hanno Sino all'ultimo minuto No? Come abbiamo visto poi Quando erano in superiorità numerica Però vedo anche una Roma nervosa Da questo punto di vista Quindi io credo che alla lunga Questa strategia del Mourinho Non credo che possa pagare Non credo che possa pagare Io credo Credo di no Quindi Dichiarazioni Rispetto Questo Secondo me Ripeto È un compattare Come al solito L'ambiente Un cercare di buttarla Sulla polemica Anche per nascondere Quella che è stata Una prestazione Ripeto Per tre quarti di gara Insufficiente Insufficiente Perché poi Tu Roma-Milan La scampi Da questo punto di vista E parli dell'arbitraggio Ma le prossime gare Devi inventare qualcosa di diverso Devi proporre qualcosa di diverso Assolutamente Quindi Io vedo passi indietro del Mou Da questo punto di vista Che mi era piaciuto Ad inizio stagione Quando parlava di campo E di tutto quello che vi pare Ok Ma Da quando ha fatto fuori Le seconde linee Adesso che la butta Sugli arbitraggi Mi sta piacendo Molto meno Mi sta piacendo Molto 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 meno Adesso Molto Molto meno Andiamo agli episodi Andiamo in Movio Lista Andiamo ai giornalisti Ecco Chi ha seguito il mio video Post Bologna Sì Bologna Post Bologna Napoli Un post Un video Dove La polemica È assente Spero che lo sia anche qua Perché io ripeto Io anche qua Non voglio far polemica Io perciò Cerco di parlare Il meno possibile Degli episodi Perché a me la polemica Non piace A me la polemica Non piace Assolutamente Però La chiarezza la cerco Quella mi interessa Quella mi piace La chiarezza Quella mi piace E ad oggi Non c'è chiarezza Il discorso è che ad oggi Non c'è chiarezza L'episodio Di Ibra Il primo rigore Ad Azzon Ti dicono Questo è un episodio Da campo E ha fatto male Il VAR A intervenire Perché è un episodio Da campo Al club Senti E l'arbitro Ha deciso in un modo Ma il VAR L'ha richiamato Perché è reputato Chiaro Evidente errore L'ha reputato È evidente L'errore Perché c'è il tocco Di Bagnets Quindi c'è il tocco Di Bagnets Ed è l'errore L'arbitro Lo va a rivedere Sbaglia Continua a sbagliare Perché ha dato rigore Qual è la verità Qual è la verità Io non la so Ditemelo voi Non la sanno Nemmeno loro Ditemelo voi Qual è la verità Qual è la giusta Regola Qual è Io non la so Io non la so L'esposizione di Teo Che poi è passata In secondo piano C'è chi dice Che possa starci il fallo C'è chi dice no Qual è la verità Qual è la verità Dove Chiaro Ultima Ultima situazione Ecco E questa Apre un mondo Quella di Chiaro Apre un mondo Quella di Chiaro Apre un mondo Perché Abbiamo discusso Dell'episodio Danfris Alexandro Quella in realtà In effetti Andandola a valutare Con 50.000 telecamere Molto simile Molto Molto anale Allora Perché lì Non interviene E perché lì Invece Contro Perché lì In Roma Milan Non interviene Il VAR E non lo richiama Perché contro l'Inter Che era l'unico dubbio Che ho espresso È vero o non è vero Che l'unico dubbio Che ho espresso Perché è andato Il VAR A richiamare L'arbitro E ieri Perché non va Cioè Non mi venite a dire Che sono episodi Dissimili Perché non Non è così Ecco Quello che io chiedo Ancora una volta È chiarezza Perché Attenzione Non parlo di Favori o sfavori Arbitrari Perché Ho visto Quell'episodio Empoli Inter Non rigore Quando D'Ambrosio Tocca leggermente L'avversario Ho visto appunto Bologna Napoli E ho visto Osimene Leggermente toccato Rigore Ho visto ieri Chier Pellegrini E Non rigore Cioè Vedi Episodi Simili Sentenze Diverse E per sentenze Diverse Non solo L'arbitro Da campo Ma anche il VAR Che a volte chiama A volte non chiama L'arbitro che a volte Decide in un modo A volte decide in un altro Questo non va bene Cioè E questa non è polemica Ragazzi La mia non è polemica Perché ripeto Per me Il Milan Ieri Ha meritato la vittoria Al netto di qualsiasi Episodio E qualsiasi situazione Anche perché Anche l'episodio Dell'espulsione di Teo È controversa È la mia Non vuole essere Ma la mia Vuole essere Cercare una chiarezza Cercare Un Una coerenza Negli episodi Per non avere Altri problemi Domani Perché io ve l'avevo detto Dopo Bologna-Napoli Attenzione perché Se noi fischiamo Sti rigori Se noi una volta Fischiamo così Una volta fischiamo con l'A Domani ci saranno Polemi Roma-Milan Polemiche E attenzione Se noi dopo Roma-Milan Non riusciamo A chiarire alcune dinamiche Per una settimana Ci saranno ancora più Polemiche Per ancora altri episodi Ecco perché Forse Forse è arrivato il momento Che qualcuno Venga a parlare Forse veramente Un arbitro O non l'arbitro Della partita O magari Come si chiama Il rappresentante Non lo so Però Se noi dobbiamo Trovare risposte Tramite giornalisti E tramite moviolisti E queste risposte Sono tutte discordanti E a sto punto E a sto punto E a sto punto è meglio Che almeno vada Un arbitro A parlare Forse E io non sono a favore Di mandare gli arbitri A parlare Non sono Non lo ero Fino a ieri Ma a sto punto Vedo che veramente C'è sempre meno chiarezza C'è sempre meno chiarezza Sugli episodi Perché non volta Vengono decise In un modo Una volta In un altro E una volta Cioè E questo Questo va Va visto E boh E francamente Dico boh Francamente Dico boh Così non Non mi capacito Non mi capacito E E sono abbastanza Per una volta D'accordo con Carezza Quando dice che Non c'è omogeneità Così non c'è Non c'è omogeneità Cioè E questa non è Polemica Che sia chiaro Questa non è Polemica Questo è un cercare La chiarezza Un cercare risposte Risposte che ripeto Al momento Non sa nessuno Perché io Su un episodio La penso in un modo Un altro tifoso La penso in un altro Un moviolista La penso in un modo L'altro moviolista La penso in un altro Un giornalista La penso in un modo Un giornalista La penso in un altro Su un episodio stesso E significa che allora Tutti sono nel pallone Se tutti sono nel pallone Qualcuno Qualcuno Deve fornire risposte Qualcuno deve fornire risposte Così no Così non si può andare avanti Così Veramente Secondo me Vogliono lucrare Sulla polemica stessa Così Perché se non vogliono Chiarire Vogliono lucrare Sulla polemica stessa Va bene Signori Fatemi sapere Cosa è il paziente A voi Commentate Like Se volete iscrivervi al canale Un grande abbraccio Daniele Buon appetito Sulla polemica stessa Ciao Ciao